buoni buona gente sono luigi in arte illusio e benvenuti a questa nuova video recensione finalmente ho concluso il mio ciclo di lettura dei romanzi di stampo nipponico che erano stati erano tra le altre opzioni del del mese di di novembre si mese di novembre o di otto no nove no no il mese di ottobre scusate il mese di ottobre del mese di ottobre del nostro club letterario lettori vesuviani come avevo già detto come già ho detto nelle precedenti recensioni ve le lascerò tutte quante linkate nel pallino magico qui se volete andare a recuperarli ebbene come avevo già detto in tutte quelle altre recensioni mi erano talmente le trame di questi romanzi suggeriti mi erano talmente piaciuti che mi è venuto in mente di leggermeli tutti quanti assieme a quello là che è ufficiale e proprio mi collego con quest'ultima recensione a quello che era il romanzo proprio che dovevamo portare quel mese ovvero la danzatrice di izu di kawabata yasunari sì perché quest'ultimo romanzo è sempre di kawabata yasunari e così come la danzatrice di izu era un primo romanzo il romanzo giovanile il romanzo della della gioventù questo che più che un romanzo era un racconto alla fine un racconto lungo questo è possiamo dire il romanzo partendo proprio da per andare da un punto estremo all'altro è il romanzo della tarda maturità uno degli ultimi ecco qui il suono della montagna di kawabata yasunari appunto allora una trama in breve che beh più breve di così allora la storia si incentra principalmente sulle vicende familiari di questa famiglia giapponese siamo negli anni negli anni 60 fine anni 50 inizio anni 60 visto dal punto di vista del capofamiglia l'anziano shingo che ha ormai superato i 60 anni avverte la fine della vita avvicinarsi da qui poi l'evocazione con il suono della montagna che è un po questo rimbombo che lui sente all'interno del suo cranio a inizio romanzo che è un parallelismo tanto da il suono che proviene dalla montagna dalla collina che si trova dietro la sua abitazione è un po un primo una prima visaglia del della vecchiaia che sta iniziando della vita ormai che sta per giungere al termine i primi sintomi di quella vecchiaia che sta che diciamo avanza inesorabilmente e lo vediamo testi e lui è testimone delle varie vicende che costellano la sua vita familiare soprattutto in particolare quelle le vicende che le vicende intime private che riguardano i suoi due figli il figlio maggiore il maschio shuichi e la figlia femmina fusaco il primo shuichi è sposato con con questa ragazza molto dolce molto bella molto bella che di nome kikuko che praticamente si prende cura di shingo e di come si chiama la yasuko la moglie di shingo quindi si prende cura dei suoceri come se fosse figlia loro molto più dei figli di sangue e mentre invece shuichi la il marito la tratta malissimo e la diciamo e la tradisce puntualmente cosa che diciamo fa diciamo non dico fa investire ma diciamo contraria parecchio shingo che dal canto suo prova un certo trasporto emotivo e sentimentale e anche sessuale diciamocelo nei confronti della nuora non se la passa meglio nemmeno fusaco la figlia femmina che costretta ad un matrimonio che l'era stato organizzato dal padre fugge dal marito portandosi dietro le sue due figlie ancora piccole l'ultima nata veramente da pochi mesi capiamo non ci viene mai detto ma capiamo che fusaco sembra essere vittima di abusi domestici ma shingo guardate no non voglio ancora diverlo perché questo è un punto negativo di questo romanzo e quindi lo terrò in un punto a parte dopo e niente alla fine shingo tramite questi confronti dei il confronto con i fallimenti dei suoi figli capisce che questi fallimenti sono derivati da un suo fallimento personale e dalla dalla ricerca di una pace interiore all'interno del nucleo familiare che lui ritroverà nell'affetto nel rapporto con la nuora con kikuko è anche un modo per analizzare dal punto di vista dell'autore il cambiamento dei tempi ovvero la fine di quel giappone dove vigeva uno statuto prettamente patriarcale e per la che deve lasciare lo spazio a un a un nuovo tipo a una nuova cultura giapponese che è molto più vicina a all'occidente da qui poi il la la fine del della vita di di shingo la che una fine che non arriva e shingo che comunque convive con l'ospetto di questa vecchiaia che un eterno addio alla giovinezza che sa tanto di morte a venezia di thomas mann con alcuni aspetti più pruriginosi che sembrano un po usciti dalla lolita di nabokov in alcuni punti e e diciamo il modo in cui alla fine shingo si rapporterà ai cambiamenti avvenuti all'interno della sua famiglia è un po un modo per dell'autore di kawabata yasunari di raccontare un poco il modo che ha il giappone adesso di aprontà di approcciarsi a questo cambiamento culturale avvenuto da quando è finita la seconda guerra mondiale beh alla fine una questa è un po una un riassunto un po anche una spiegazione una mia interpretazione anche libera che vi ho dato di questo romanzo e devo dire dopo averlo terminato di leggere devo dirlo ragazzi io ho ho ufficialmente un problema con con kawabata yasunari allora perché lui è bravissimo il suo stile di scrittura mi piace molto è uno stile bellissimo si ricorda proprio quello che dovrebbe essere lo stile di scrittura giapponese che sembra rimandare molto agli haiku ovvero le poesie brevi giapponesi tipiche giapponesi però rapportato alla prosa e in più c'è il suo il suo forte collegamento la il proiettare la vita l'esistenza umana con gli aspetti della natura infatti una caratteristica di questo romanzo è che non avendo proprio a un un esoscheletro di trama ma è molto libera nella narrazione è suddivisa in vari capitoli ogni capitolo è a un titolo che rimanda al mondo della flora della fauna della natura in generale e questo capitolo è suddiviso a sua volta in tanti sotto capitoli che vanno da un minimo di tre ad un massimo di cinque e sembrano quasi dei racconti a sé in cui si affrontano varie tematiche in cui scingo fa delle determinate autoanalisi con ciò che lo circonda e anche con se stesso con il suo passato con il suo presente e devo e quindi da questo punto di vista non ho nulla da dire a me piace a me piace molto però il problema è che continua c'è mi piace perché non mi piace perché ne riconosco la bravura riconosco che è un bellissimo romanzo io lo consiglio a tutti però al tempo stesso non mi piace ragazzi lo so è paradossale dico che mi piace però dico che al tempo stesso non mi piace che beh ragazzi può piacermi lo stile può piacermi l'esposizione può piacermi il messaggio non mi piace l'ambito culturale in cui nasce questo romanzo perché diciamoci ragazzi io non ho apprezzato questo romanzo come non ho apprezzato Kawabata Yasunari perché troppo lontano da me da un punto di vista culturale ok ognuno può dire sì ma devi considerare l'aspetto devi contestualizzare l'opera e l'autore nella sua epoca nel suo ambiente sì certo sono io il primo che lo dice l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di ripeterlo e io l'ho contestualizzato questo romanzo però l'averlo contestualizzato non mi incentiva a farmelo piacere perché io non apprezzo quel tipo di cultura che è una cultura di stampo patriarcale prettamente misogina l'ho detto ragazzi anche se qui c'è un qualcuno che avrà letto il romanzo sicuramente qua avrà da ridire perché diranno che giustamente che la figura della donna non viene maltrattata il personaggio di di Kikuko la nuora è praticamente la Beatrice dantesca in chiave nipponica dell'autore eccetera Shingo ogni volta che parla della nuora si fa uscire lo zucchero filato dalla bocca ma ragazzi è obiettivamente è oggettivamente un una società che schiaccia la donna non è misogina però è un patriarcalismo che distrugge la donna in tutti i sensi in questo contesto la donna deve avere solo due doti essere bella ed essere sottomessa all'uomo basta se hai una mancanza di questo ti è uno stigma Fusaco la figlia del protagonista Shingo non riceve alcun tipo di di compassione da parte del padre nonostante sia evidente che lei abbia subito degli abusi da parte del marito perché non riceve una comprensione un aiuto dal padre perché è brutta cioè il padre quando parla di Fusaco dice è peccato che sia brutta ma porca di quella è tua figlia sta avendo un gravissimo problema o non se ne sarebbe scappata di casa portandosi dietro due figlie piccole e tutti lamenti del fatti lamenti del fatto che lei sia al cui che si comporti la disbetica che fa che si lamenti di tutto che sia sempre arrabbiata io come io se fossi un genitore se vedessi un mio figlio in queste condizioni che è aggressivo con tutti io cercherei non tanto di condannare io non lo condannerei ma cercherei di capire che cosa perché sicuramente ha passato qualche cosa lui lo fa no non lo fa anzi arriva addirittura a dire che quando capisce che magari il problema risiede del fatto che potrebbe aver avuto problemi anche gravi da parte del marito lui si azzarda a dire eh ma probabilmente sarà stata colpa colpa di mia figlia sarà stata colpa di Fusaco che non è riuscito a comprendere bene suo marito ma stiamo scherzando io non ci potevo pensare ok sono un po uscito fuori dal contesto sì perché però non ci posso fare niente io quando sento descritti anche velatamente degli abusi domestici non possono rapportarli a come avvengono al giorno d'oggi e vedere un padre che non prende le difese della propria figlia madre di due bambine piccole io vorrei sapere anche che hanno passato queste due povere bambine niente il scingo il narratore se ne frega altamente anche delle nipoti perché guarda caso pure loro sono brutte io vorrei sapere dove c'è la bruttezza nei bambini qualcuno me lo deve spiegare va bene e quindi e di conseguenza e quindi a maggior ragione quando uno dice è però lui tratta benissimo la figura della nuora certo perché la nuora rispetta quelli che sono i canoni secondo cui nella mentalità patriarcale di scingo quindi dell'uomo giapponese tradizionalista come dovrebbe essere una donna bella e sottomessa all'uomo guardate kikuko è un personaggio che per certi versi rappresenta un po con la parte salvifica del narratore però al tempo stesso per come l'ho inquadrata io rappresenta la donna zerbino per antonomasia un bel faccino sempre sottomessa disposta a prendersi i cazzotti in faccia dal marito e a pulire le scarpe al e a pulire i piedi al suocero poi non parliamo poi della moglie mamma mia la moglie la moglie la moglie di yasuko la moglie del narratore di scingo è stata il mio personaggio preferito perché ho pensato mamma mia ma lei è un personaggio bellissimo nonostante sia travolta da 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 questo ondata di drammi e di eventi non perde mai la calma è sempre padrona di sé non ha mai nulla da ridire nonostante il marito la tratti almeno mentalmente da schifo ce la fa passare come se dovesse essere a parole su una sorta di santippe invece è un pezzo di pane di donna mamma mie tiramenti pure del fatto è perché anche lei è brutta io no io scusate lo lo so è contestualizzazione ok comprensione della tradizione altrui delle differenze ok ok posso comprenderle mai comprenderle non implica apprezzarle il contestualizzare un romanzo una un'opera di qualsiasi tipo nella nell'alveo culturale in cui nasce e si forma non implica riuscire ad apprezzarlo perché in quel caso io se apprezza io questo romanzo lo apprezzo da un punto di vista stilistico e contenutistico da un punto di vista culturale non me la sento di apprezzarlo perché è una cosa con la quale io sono in disaccordo e se apprezzassi certi contenuti di questo romanzo guardate mancherei di rispetto al mio modo di pensare e mancherei di rispetto a un sacco di altre persone di mia conoscenza che purtroppo certe cose le hanno vissute hanno vissuto certi drammi del genere non aggiungo altro per delicatezza perché non parlo di affari miei parlo di affari degli altri vi basti solo sapere quello che potete avere inteso ok quindi alla fine consiglio è un romanzo che vi consiglio sì ragazzi io non voglio non voglio peccare di come posso dire non voglio rischiare di risultare contraddittorio però non voglio nemmeno fare questo tradimento culturale diciamo diciamo da un punto di vista letterario io ve lo consiglio perché obiettivamente è un bel romanzo ti arricchisce al di là della questione del ruolo della donna all'interno della società giapponese che scusate ne ho fatto un po un affari di stato capito ho fatto una polemica incredibile però mi è uscita spontanea perché quando leggevo questi passaggi che occupano il l'ottantacinque il 90 per cento di tutto il romanzo il 90 per cento di questo romanzo è formato da queste cose qua questo il concetto della donna nell'ambito della società giapponese quindi io mi sono fatto talmente tanto il sangue amaro durante la lettura che a un certo punto mi sono dovuto fermare e ho dovuto interrompere questa lettura e leggermi qualcos'altro perché ho detto se no veramente non riesco nemmeno a trovare una cosa positiva l'aver spezzato la lettura e averla ripresa poi successivamente a mente più fresca mi ha aiutato a riconoscere il giusto valore di questo romanzo perché guardate se non avessi fatto così io questo romanzo l'avrei bocciato su tutta la linea non l'avrei consigliato eccetera invece no io non lo boccio perché è un buon romanzo è scritto benissimo ha un messaggio di fondo che per me è molto interessante e anche molto importante se lo rapportiamo ai cam al cambio intergenerazionale i cambiamenti culturali che tanto spaventano le anti le vecchie generazioni eccetera che questa meno è una cosa che unisce oriente e occidente indipendentemente da tradizioni e culture eccetera e quindi io ho potuto apprezzare questa questo aspetto considero sempre la questione culturale la descrizione del ruolo della donna che per me è rimasto una cosa uno spillone accuminato che mi ha trapassato la gola ed è rimasta qua conficcata a darmi un fastidio perenne però riconosco che è un ottimo romanzo e io come tale ve lo consiglio ve lo consiglio sempre dicendovi come ho fatto anch'io di considerare sempre l'ambiente in cui è stato scritto l'autore perché l'autore comunque è a vecchio stampo perché già lei ha scritto questo romanzo proprio quando era già anziano quindi è veramente l'occhio del narratore del discingo il 62enne il 63enne protagonista quindi proprio kawabata yasunari e niente io ve lo consiglio e sempre mi raccomando con le dovute precauzioni considerate un poco i vari aspetti secondo me questo è anche un ottimo modo per analizzare alcuni aspetti non solo della cultura giapponese ma anche un po della nostra cultura perché ci sono certi aspetti che secondo me sono rimangono universali anche a distanza di decenni e a distanza di continenti e nazioni quindi io il romanzo lo consiglio mi è piaciuto da questo punto di vista non mi è piaciuto per questi altri e non penso di poter dire altro sono contento di averlo finito d'orina avanti penso che Kawabata yasunari ed io prenderemo due strade opposte mi ha fatto piacere avere a che fare con lui non penso che avrò molto piacere a rileggere qualcos'altro di suo a meno che poi beh la vita è lunga non si può mai sapere cosa potrebbe accadere chi lo sa magari potrei decidere in futuro di dargli un'altra possibilità per il momento sinceramente non me la sento ok quindi questa era la mia recensione a il suono della montagna di Kawabata yasunari e con questa recensione io pongo fine a quella che dovevano essere un po' tutti i romanzi nipponici usciti fuori dalle nostre discussioni all'interno del club letterario Lettori Vesuviani per tutte le altre recensioni agli altri romanzi di cui ho parlato che ho già letto vi rimando sempre ai video che vi lascerò qui nel pallino informazione adesso che ho terminato tutta la lettura posso dire che quello che mi è piaciuto di più in assoluto è la ragazza del Kyushu quello è sicuramente quello che più mi è piaciuto leggere quello che più ho apprezzato sotto tutti i punti di vista metto poi sullo stesso piano la danzatrice di Izu e il suono della montagna di Kawabata yasunari e lascio per ultimo Ranocchio salvatocchio di Haruki Murakami ma più semplicemente perché era un racconto estrapolato da quella che doveva essere un'antologia più completa di racconti quindi solo per questo aspetto qua e niente ragazzi sono provato sono provato da questa lettura e sono provato dalla giornata eccetera quindi io termino qua il video spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra se anche voi avete letto qualche romanzo di Kawabata yasunari se avete letto magari anche voi il suono della montagna ditemi voi cosa ne pensate anche un po' di quel pippone che vi ho messo a metà video creiamo sempre i nostri punti di discussione civile iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao ciao